Il più cordiale buon giovedì da Maria Beatrice Crisci, le audio news di Onda Web TV, le notizie in positivo. Si terrà sabato 29 febbraio alle 18 la tappa del campionato regionale di Slum Poetry, organizzato da Caspar Campania Slum Poetry. Sede dell'evento la storica libreria Pacifico Libri in via Lois a Caserta. La competizione si basa su una sfida in versi tra poeti e autori, dei testi in gara e sul voto del pubblico presente in sala, che avrà anche il ruolo di giuria. Alla libreria che storia di via Tanuccia a Caserta, lettura a voce alta del libro Il lupo che voleva essere pecora, di Mario Ramos, cura di Cinzia Crisci. L'appuntamento è per sabato 29 febbraio dalle 18 alle 19 e 30. Ancora sabato al planetario di Caserta in via Ungaretti lo spettacolo La Fata della Notte, più una visita al percorso museale, dalle 19 e 30 alle 20 e 45. Ed è tutto da Maria Beatrice Crisci, un grande abbraccio e una raccomandazione. Seguite le notizie in positivo su Onda Web TV.it. Le audio news sono offerte da Trefarine, racconti di gusto.